Fine del pacifismo, la guerra è dichiarata. Con questo slogan alcuni dei gira gialli si preparano al 19esimo sabato di mobilitazione, domani. Un avvertimento che le istituzioni hanno preso sul serio, tanto più che le devastazioni e i saccheggi senza precedenti dello scorso sabato, 170 milioni di danni agli Champs-Élysées, sono ancora sotto gli occhi del mondo. La celebre via, messa a ferro e fuoco, oggi si mostra come un cantiere aperto. Prenderemo le misure necessarie a impedire manifestazioni in alcune aree. Questo sabato gli Champs-Élysées, come altre parti della città colpite da questa crisi, saranno off-limits a ogni genere di manifestazione. Per domani è previsto il rafforzamento dell'operazione antiterrorismo Sentinelle. I militari affiancheranno la polizia e i gendarmi per le strade di Francia. Obiettivo arginare una violenza che non aveva mai raggiunto i livelli della scorsa settimana, anche se i numeri dei manifestanti, e forse proprio per questo motivo, scendono in caduta libera. Raggiungeremo il livello di efficienza che non abbiamo raggiunto lo scorso sabato. Ho chiesto una nuova strategia che conferisca maggiore autonomia agli agenti sul campo a Parigi, che lavoreranno sotto un comando unico con più potere di reazione e iniziativa. Il ministro dell'interno Christophe Castaner ha chiesto ai nuovi vertici della prefettura di Parigi inflessibilità e impunità zero per sabato, mentre l'opposizione preoccupata si chiede quali potrebbero essere le conseguenze se i militari muniti di fucili d'assalto si trovassero a fronteggiare manifestanti violenti.